Salve a tutti ragazzi e vedrete dal canale del Marchesi Rosso Blu Il Gubbio finalmente vince 2 a 1 a Bolzano contro il Sud Tirol Finalmente ragazzi, finalmente si portano a casa i tre punti Mancavano dalla vittoria con il Padova in casa da più di un mese e mezzo Quasi due mesi, finalmente si è tornati a vincere Non se ne poteva più, belle prestazioni con ditte che non arrivavano i risultati San Benedetto ha fatto una bella partita, non abbiamo vinto, pareggiato In casa con la Birolef abbiamo fatto un buon primo tempo e non abbiamo vinto Comunque sia, finalmente il Gubbio vince con San Ettore Marchi Un mostro, non ci sono altri aggettivi Un mostro, mostro, in senso calcistico e buono ovviamente Ettore fa una partita da 10, proprio 10, una cosa impressionante Un attaccante di un'altra categoria 11 gol per Ettore Marchi oggi Fimo la grandiosa doppietta che ci consente di andare a 27 punti Ecco la sconfitta del Sant'Arcangelo in casa contro il Padova Di portarci a più 5 dai play-out e ad avvicinarsi moltissimo Penso o di un punto o di due, credo, o tre non lo so, o uno o tre Dai play-off Quindi di conseguenza ci stiamo rimettendo in carreggiata per un campionato Che è quello che il Gubbio è stato costruito all'inizio del campionato Cioè una salvezza, sì, tranquilla, però cercare di fare i play-off Perché ovviamente il finalesimo posto è nelle nostre possibilità Ma comunque Gubbio che trova gol dopo l'inizio del secondo tempo Intorno al ventiquattresimo, se non mi ricordo male E si è subito Ettore, un grandioso gol Un gol fantastico Stoppe di petto All'inizio dell'area di rigore Si rigira Una bomba Sull'angolino basso Portiera manco la vista Proprio, mamma mia 1-0 Dopo due minuti Ettore Con un grandioso passaggio di Malaccari Libera Che fa un passaggio perfetto per Ettore Entra in area Sigla Sempre nel solito palo Il 2-0 Poi ragazzi Partita finita? Assolutamente no A noi ci piace soffrire Purtroppo Dierna Ha fatto veramente una bella partita Colossale Roccioso Perfetto Ha fatto un errore Che è stato bravo anche Zanchi Che si è liberato bene E Dierna purtroppo L'ha colpito con la gamba Non ci ha fatto a posto ovviamente Però è stato molto bravo Zanchi A procurarsi il rigore L'ex tra l'altro Che gioca magari Candellone Oggi con il Zuttiroll Che praticamente Ha permesso Di segnare Al Zuttiroll E di rapire la partita L'unica differenza È che abbiamo sofferto Un pochino di più alla fine Però Se c'era una squadra Che oggi sul campo Veritava di vincere Era Se Proprio Manco a dirlo Il dubbio Ragazzi Questo sarà un video Un po' particolare L'ho visto insieme Al mio collega Marchese qua vicino Che adesso qua Adesso non c'è Qua vicino Inteso che l'ho visto Insieme al mio Marchese Davanti alla televisione E Di conseguenza Farò dare Un breve commento Anche a lui Quindi io adesso Vi saluto Vi ricordo di lasciare Un like Un commento Iscrivervi al canale Condividetelo Tutto quello che vi fare Dite chi secondo voi È stato il meglio in campo Ovviamente Complimenti anche a Volpe Che ha fatto una grandiosa parata Oggi ho giocato tutti bene E quindi Ovviamente Come vi ho detto prima Commento, like, condivisione Quello che volete Giro la mia parola Giro la parola Anzi Giro la parola Al mio collega Marchese Emanuele Che vi dirà Il commento finale Di questa partita Ciao ragazzi Eccoci quindi qui ragazzi Saluto il mio collega Marchese Rossobluo Che ha fatto l'introduzione Di questa recensione E io sono qua Presente da solo Anche se abbiamo visto La partita insieme Per farvi la conclusione Purtroppo sono dovuto Andare via Proprio a razzo Appena l'arbitra ha fischiato Il fischio finale Della partita Però comunque Ci tenevo a darvi Anche la mia opinione A riguardo Allora Come avete ben saputo Il Gubb ha vinto per 2-1 In casa del Suttirol Una partita difficile Una partita sofferta Una partita importantissima Da vincere Per uscire Dalla crisi Che ci vedeva Dai primi di dicembre Non vincitori Perché non vincevamo Da quasi Da forse più di due mesi E finalmente Ci siamo avvicinati Alla zona playoff Distante soltanto Un punto Allora È stata una partita Molto complicata Soprattutto nel primo tempo Ho visto due squadre Molto bloccate Che forse avevano Entrambe la paura Di perdere Però visto che noi Eravamo in crisi E si sapeva Loro invece Sono ancora Nelle prime posizioni Ed erano in casa Sicuramente La squadra che ha avuto Un approccio migliore Tra le due Secondo me Siamo stati noi Pur con poche Occasioni reali Per segnare Una di queste Sui piedi di Marky Che però In semi rovesciata Ha spedito la palla Sopra la traversa Ma dopo parlerò Specificatamente di Marky Nel secondo tempo Siamo riusciti A sbloccarla Dopo pochi minuti Grazie a una doppietta Fantastica Del nostro bomber Ho detto che ne avrei parlato dopo Però Cioè È impossibile Perché il discorso principale È solo E principalmente Su di lui Perché per me Se abbiamo vinto E se tuttora Siamo in lotta Per un posto in playoff È solo Ed esclusivamente Per merito suo Io sono convinto Sicurissimo Che lui stesso sa Di essere sprecato Per il Gubbio Perché con la rosa Che abbiamo attuale Si vede chiaramente Che abbiamo Tanti giocatori Di livello normale Alcuni anche Abbastanza mediocri E poi c'è lui Poi c'è lui Che è uno dei migliori Centramanti Che il Gubbio ha avuto Negli ultimi anni Ma senza esaltazione Ancora Ci mancherebbe Però Basta di pensare i dati Abbiamo fatto poco più Di 20 gol in stagione 11 ha fatti lui Con Il Zuttiroll Non abbiamo vinto Solo perché ha fatto doppietta Ma perché è stato l'unico Che realmente ha provato Veramente A creare dei pericoli Verso il cinquantesimo Ormai la partita Era bloccata solo 0-0 Adesso non mi ricordo Di preciso quando ha segnato Però La partita era bloccata Non si sapeva cosa fare Allora Sembra quasi che lui Ha detto a tutti quanti Ragazzi Moce penso io Preso palla Controllo Sinistro Destro 2-0 In 5 minuti Assurdo Siamo rimasti veramente Senza parole Io e i miei cugini Lì siamo rimasti così Mamma mia Un fenomeno Cioè è veramente Un fenomeno Io gli voglio fare Tantissimi complimenti Perché ha fatto Una scelta di cuore Che non gli avrebbe Consigliato nessuno Visto come sta andando Il calcio moderno Ha fatto una scelta di cuore E ha voluto venire a Gubbio Nonostante un progetto Non particolarmente saltante Perché rispetto ai Scorsiani Questa mi sembra Una squadra Non troppo forte Con tutto rispetto Però comunque Si vede che magari Anche rispetto all'anno scorso Siamo leggermente calati Ha scelto un progetto Meno vincente rispetto ad altri E nonostante tutto Lo sta portando avanti Con una grinta Incredibile Quindi Gli volevo fare Tanti complimenti Perché grazie a lui Se tuttora Siamo ancora in lotta Per un obiettivo Importante Poi Quali sono le note Negativi Diciamo alla partita Essenzialmente di questa partita Una nota negativa È il fatto di averli Rimessi in corsa Negli ultimi minuti La partita era ormai chiusa Eravamo 2-0 Non avevano fatto Pinti non porta C'era bisogno di fare Quel fallo stupido In area di rigore Di Dierna Su Zanchi E riaprire la partita Poi per carità Anche sul 2-1 Non abbiamo subito Così tanto L'aggressività Dei padroni di casa Mi aspettavo Che attaccassero un po' di più Però è normale Il calcio è strano Magari capitava Che una palla e mezzo Veniva deviata Leggermente da un difensore Finiva in porta Buonanotte Dopo tu Avevi buttato via Una partita che praticamente Avevi già vinto Quindi in questo caso Da lamentarmi Alla squadra Cioè la mia lamenta La verso la squadra E soprattutto Per quanto riguarda Il fatto degli ultimi minuti Tu sei 2-0 Stai vincendo Ti basta gestirla Un po' meglio E la porti a casa Spero ovviamente Che questa vittoria Sia servita a sbloccarci Sia tecnicamente Che mentalmente La prossima sarà in casa Col Pordenone Che sarà difficilissima In tutto e per tutto Ma dovremo fare il massimo Per cercare Magari di vincere E perché no Per così almeno Vedere l'obiettivo Playoff Più percorribile E più alla nostra portata Se riusciamo a dare Continuità a questa vittoria Ci potremmo riuscire Un saluto quindi Vi saluto sia io Che il mio collega Che sicuramente Vi ha salutato prima E ci vediamo Ad un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi